riproviamo il k2 siamo nella wakarewarewa forest a rotaru a nuova zelanda grade 5 è un sentiero nero di un chilometro e mezzo l'ho visto insieme a dei local vediamo se riesco a farlo anche oggi da solo sempre sul grossino andante comunque tantomeno per me mi hanno insegnato che la linea alta è sempre la migliore vediamo se riesco a prenderle stavolta non questa qua mi piace di più l'interno però no 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 no